Buongiorno Galileo Girotto, sono responsabile vendita di JVC Professional, ci troviamo allo stand JVC Camwood al Mir 2019 di Rimini. E' presente come novità assoluta oggi la nostra nuova telecamera della linea connetta e cam GYHC 550, 4K con un apparato streaming innovativissimo, in coda ho il segnale video e audio e tramite questo apparato streaming poi lo può trasferire grazie anche alle due antenne MIMO di dotazione, può trasferirlo a un wifi, può trasferirlo con una penna LTE e quindi permette di fare uno streaming in modo molto semplice con una qualità estremamente adeguata. Continuando poi all'interno delle novità del nostro stand vedete che presentiamo la telecamera GYHC M250, una telecamera 4K, anche questa con un apparato streaming, ha la stessa dotazione dell'altra, chiaramente vedete qui è fornita con un'antenna wifi. Altra novità che c'è all'interno dello stand JVC Camwood è un sistema di riconoscimento facciale, per un evento live, per una discoteca, per un palazzo dello sport, per un campo sportivo ci sono dei tornelli, c'è sempre un ingresso e quindi ci possono essere delle persone che non hanno l'abilitazione per entrare, per esempio pensate ai DASPO, il riconoscimento facciale una volta che esiste un database blocca immediatamente il tornello o la security può immediatamente bloccare l'ingresso di queste persone. Ultima possibilità è quella di gestire una lista di VIP management, cioè io arrivo, sono un VIP, mi arriva subito il wallet che mi dà l'opportunità di essere considerato diverso dagli altri, quindi portato in una longe particolare perché immediatamente vengo riconosciuto grazie a questo sistema. La cosa poi fondamentale è che questi sistemi si interfacciano direttamente con quelli che sono i database delle forze dell'ordine piuttosto che di altre security e quindi viene immediatamente riconosciuto quello che può essere il soggetto che non deve essere chiaramente poi viene identificato e non deve essere portato all'interno del locale.